Questa sera ci occupiamo di alcuni particolari delle crocefisso e delle due statue recentemente restaurate e ritornate presso il santuario del paradiso, dal Madonna del Paradiso. Sì, dopo il restauro che è andato dal dicembre 2012 al settembre 2013 da parte del laboratorio Villa, adesso le opere, le tre statue, il Cristo del XVI secolo e le statue laterali della Vergine e di San Giovanni del XVIII secolo sono ben visibili e si prestano quindi alcune considerazioni sull'epoca in cui sono state fatte e anche qualche ipotesi sugli autori di queste statue. Cominciando dal Cristo, il restauro ha confermato questa struttura corporea con le due braccia snodate e quindi lascia aperto il discorso all'ipotesi che questo crocefisso del Cinquecento, perché è nel XVI secolo sicuramente, io direi primo quarto, prima metà del Cinquecento, era utilizzato probabilmente staccato dalla croce e utilizzato per le processioni del Verdi Santo con il Cristo venire adagiato sul cataletto e portato in processione. E' stato probabilmente utilizzato il filo con il suo sostituito dal Cristo che invece è già scolpito e già disteso sul cataletto, quello di Andrea Fantoni, del 1726 che si è stato votato nelle disciplini. Ma la struttura del viso, i capelli divisi, profondamente segnati dall'intaglio, il viso nobile e espressivo, gli occhi socchiusi, la bocca socchiusa, la struttura dei capelli, i gigoi sporgenti, fanno pensare alla somiglianza con un Cristo crocefisso che si trova a Fontanella, ma che proviene dalla vecchia chiesa parrocchiale di Ardesio ed è opera di uno scultore che è milanese, ma ho parlato nel Bresciano e nel Bergamasco tra il 1485 e il 1525 e il 1526, si chiama Pietro Bussolo e quindi rimane aperta questa ipotesi. Ci sono però alcune indicazioni che fanno invece pensare probabilmente a un'altra bottega, a un altro scultore. La struttura del corpo per esempio non è quella che si riferisce a altre sculture di questo scultore, rimane comunque aperta questa ipotesi. Mentre invece per le statue laterali la Vergine e San Giovanni la faccenda è più facile, cominciando dalla Vergine, la tipologia della Vergine è la mano sul cuore e l'altra mano aperta a mostrare il Cristo. Il riferimento è all'attendite, vedete, guardate se c'è un dolore uguale al mio. è un riferimento ad alcune statue utilizzate dalla bottega di Donato e di Francesco Fantoni utilizzate queste statue per i compianti, in particolare al riferimento al compianto di Sovere in cui la Vergine ha la stessa tipologia, anche se in controparte è un po' diversa. Là il compianto è datato a 1757, meno detto che il diritto dello Stato è trovato la data a 1758, quindi ecco probabilmente la conferma di questi legami con altre statue sempre fantoniane. Grazie. 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 Grazie.